ciao ragazzi e ben ritornati in questo nuovo video di gta 5 ed oggi siamo in un cazzeggio time come così si può definire ed oggi siamo con franklin con una macchina praticamente tutta scassata cazzo la gta si imbarra tutto ragazzi io però voglio dire una cosa che cazzo la polizia arrestata la roxa games cosa voglio la roxa games all'anno arrestato non farà una culona culona sexy muori bastardo bene saliamo qua per un cazzeggio time se così lo possiamo chiamare no saliamo qua raga io non si è fatto un cazzo la cosa più figa se vuoi si faccia esplodere ora si può fare esplodere è vero mi sono ricordato che non siamo guarda che palla non si può fare però qui c'è una macchina sexy quindi pompa bene bastardo muori muori veramente raga oh shit ah che ho pezzito sfuggiamo oh shit oh man perfetto oh god io però ancora le cartaglie cazzo cazzo oh cazzo nooo si è rotta la macchina cazzo strozzo che cazzo è? si è buggato a gta oh cazzo freddy ma che cazzo raga è normale che freddy faccia queste cose per me no è freddy se sei strozzo oh facciamo un'altra cosa capito va bene perchè i chimici qui ah le onde so sono le bigli di merda bene adesso andiamo a fare l'astaraggio mmm cosa potremmo fare? cioè io voglio qualcosa che sia vivo un proprio sgocciola e cazzo però le notifiche su facebook ho detto agli altri ha preso una capata non si è fatto un cazzo bene bene o l'idea rimanite cazzo qui c'è della gente uh uh la la una bella modicina ronda sexy bene bene andiamo vai moto va moto sceletta è però no questo cazzo shit non man prendi a parte che non so cosa significa man ma forse cazzo oh yeah bella beh andate a raffanculo che io ho la macchina deluso che io ho la moto deluso vabbè acendo io stranzo yeah yeah che cazzeggio io sto divertendo no dai 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 fai 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 no che cazzo questo raga merita un mi piace assoluto anche se volevo usare i trucchi vabbè vabbè ma raga io i trucchi me li dovrei scrivere proprio mi dovrei scrivere da qualche parte i trucchi miei come si scusate sui quando vabbè vabbè ma come mi ha saltato come mi ha schifato vabbè raga finiamo in bellezza finiamo in bellezza bello madafaga lasciate un po' da ragazzi cazzo ho finito gli esplosivi vabbè c'è così scelta a tua madre oh la mia è fallibile oh quasi andandoci rimorchiamo yeah si bene ragazzi lasciate un commento un mi piace iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti comunque iscrivetevi dando quel pulizzo ha fatto un salto epico e noi ci vediamo al prossimo video ciao raga